buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi vi mostrerò una nail art semplicissima ma molto carina per le feste non vi ho inserito tutti i passaggi del semi permanente ma perché sono sempre gli stessi quindi deidratante binder e base qui sto stendendo già lo smalto bianco milk di passione unghie su tutte le unghie faccio due passate dopodiché vi faccio vedere la nail art partiamo con la nail art come vi ho detto è davvero semplicissima ho preso un semi permanente rosso natalizio e con il dotter ho fatto semplicemente alcuni puntini sul pollice e sull'anurare chiudo poi con il top coat ed ecco fatta la mia nail art natalizia come vi ho detto molto semplice ma molto carina e quindi per questo video è tutto io vi saluto e vi ringrazio di avermi seguito anche questa volta e buona nail art a tutti ciao grazie a tutti Grazie a tutti.